Sì Buon pomeriggio amici, è un piacere proporre ancora l'offerta Mondial Casa ricchissima e ricca di novità una di queste è il TV Color 28 pollici, schermo 16 noni, una delle alternative per poter scegliere allora però che cosa dobbiamo vedere? tutta l'offerta e partiamo dalle protagoniste, le pentole Mondial Casa le state vedendo, sono belle, solide, comode, garantite a vita e soprattutto nuove allora signore fate attenzione quando fate la spesa ma cucinate con Mondial Casa perché solo così avrete la salute in tavola cibi gustosi e pochi grassi poi abbiamo anche l'opportunità di avere a casa il ferro da stiro, lo state vedendo è professionale, vi farà risparmiare un sacco di tempo e di energia l'aspirapolvere oppure un prodotto a scelta fra i piatti in porcellana oppure questa coperta matrimoniale calda, caldissima in lana Merinos oppure potete scegliere Eolo che è un aspiratore molto potente pensate 2200 watt di potenza filtro EPA senza sacchetti, sempre pulito oppure la videocamera 12 megapixel interpolati zoom 4x pensate che solo questo oggetto ha un valore commerciale di circa 250 euro oppure l'MP3 con funzione MP4 per i video e la funzione radio oppure potete scegliere il TV Color più la batteria di pentole la batteria di pentole Mondial Casa che è sempre la protagonista di questa offerta sono 15 pezzi, acciaio inox 1810 tutti garantiti a vita ma la vera novità è che queste pentole sono tutte nuove ed è nuovo anche questo fondo termico alto molto più di un centimetro che serve proprio a facilitare la diffusione del calore e ci permette di cucinare su tutti i piani di cottura che abbiamo nelle nostre case quindi tradizionale vetro ceramica, induzione, elettrico e poi risparmiamo sempre tempo e denaro perché possiamo cucinare sullo stesso fuoco per esempio diverse pietanze assolutamente vero il risparmio e l'altissima qualità è ciò che ha portato questa grande azienda ad avere tanto successo signori pensate che tutto quello che avete visto questa offerta ha un valore commerciale di 198 euro telefonando voi riceverete la merce a casa subito ma potrete decidere di pagarla udite udite dal 15 maggio 2008 allora signori io vi dico 848 800 800 fidatevi, siate furbi non vi fate imbrogliare, non gettate il denaro andiamo a ricapitolare l'offerta abbiamo la batteria di pentole più l'aspirapolvere più il ferro più un prodotto a scelta fra i piatti la coperta in lana merinos eolo o la videocamera o l'MP3 oppure potrete scegliere tra il TV Color e la batteria di pentole TV Color più batteria chiamateci, ciao! il tuo fisso ti mette KO libera la tua casa dai costi inutili chiama gratis l'800 190 190 e attiva Vodafone Casa amici stasera alle 21 e 10 su canale 5 Scegli sei libero e da oggi puoi parlare e mandare sms a soli 6 centesimi con il primo abbonamento libero da vincoli tasse e costi fissi life is now Vodafone questa settimana prova anche tu il nuovo tirolese di McDonald's con irresistibile speck e cipolla alla piastra ti aspettiamo sul set tra un'ora ok ho due o tre cose da fare ma ci sarò nuova Nissan Micra con più tecnologia per vivere meglio scoprila nella nuova versione Fox Live con TV digitale portatile e su tutta la gamma Micra finanziamento in 4 anni a tasso 0 e anticipo 0 è Medical Pharma è forte è nuovo è Forlip Forte ancora più efficace nell'aiutare a perdere peso grazie alla formula potenziata a base di estratti vegetali aiuta a ridurre l'assorbimento di zuccheri e grassi ad attenuare il senso di fame ad equilibrare naturalmente l'apporto calorico Forlip Forte più forte lui più in linea tu dalla linea Forlip prodotti creati per la salute e il benessere in farmacia o telefono all'800 176 952 Guten Morgen mio nome è essere Otto e io ho venuto qui per presentare grande macchinetto di caffè precise come di orologio guarda prova grazie ma una schifezza lo so però è precisa senti lascia perdere sta macchinetta è il caffè che fa la differenza lo vedi questo? è la vada posso usare per il mio macchinetto? ecco abbiamo la nostra eppure questa è la vada senti che espresso è la vada a modo mio ammazza la bomba allora io prendi tutto così ho tu felice e io ti butto adesso così ho tu volante a modo mio nei migliori supermercati della terra eh Muller presenta il mio bianco che gusto suppleme è lo zucchero d'uva e con crema di yogurt bianco il piacere continua da oggi vince ogni giorno un weekend benessere Muller fate l'amore con il sapore oggi prepareremo un piatto che vi farà innamorare con i funghi freschi mettete i funghi e i cipollotti e fate dorare i petti di pollo ma aggiungete il granulare classico Knorr per un soggetto più gustoso e voilà la cena è pronta perfetto e basta per due ancora più gusto alle tue idee Granulari Knorr 4,90 4,90 4,90 la rete Tele2 cresce chiama oggi e da soli 4,90 euro al mese fino al 30 giugno navighi senza limiti e parli quanto tempo vuoi senza il canone Telecom solo se ti attivi entro il 13 marzo chiama Tele2 al 1922 Uga Chaka 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 U però non possiamo dirlo adesso invece possiamo dire che avremo una storia straordinaria di una nonna che dona il rene al nipote certo poi Pino che altro avremo? perché ci siamo tenuti qua a campagna cosa dobbiamo fare? che dobbiamo fare? eh lo sapete papi ci sei? ce la fai? sei connesso? ciao a domani ragazzi non fatevi fare queste cose Gianni